Una prima riunione tra le giunte di Caltanissette e di San Cataldo, quella che si è svolta stamattina a Palazzo del Carmine. Un esempio di collaborazione, ma soprattutto di condivisione, quello che ha interessato le due giunte, che intendono promuovere lo sviluppo del territorio nisseno e sancataldese al fine di creare sistema, avviando ad una competitività che possa valorizzare la ricchezza di entrambe le città. Al centro dell'incontro si è discusso della condivisione dei servizi sanitari, della promozione del territorio ed in particolare l'intento di creare un distretto geominerario tra Caltanissette e San Cataldo, la proposta di realizzare una metropolitana all'aperto che migliori i collegamenti e le comunicazioni tra le due città. La prima giunta che facciamo insieme tra la giunta di San Cataldo e la giunta di Caltanissette perché le due amministrazioni hanno in comune l'idea di un'amministrazione partecipata e quindi in questa logica le comunità di Caltanissette e San Cataldo hanno molti punti di sovrapposizione. Ci siamo impegnati a una progettualità comune per gli aspetti che si possono sovrapporre che riguardano vari settori, dalla sanità all'agroalimentare, alla mobilità. È un segnale forte di cambiamento, di chi esce dall'individualismo e dall'autoreferenzialità e invece si pone con umiltà a costruire sistemi virtuosi, sistemi che rendano il territorio competitivo. Io personalmente sono molto grato di questo perché mi dà forza, mi dà energia a credere che veramente questi percorsi di cambiamento si possono innestare. E per i nostri cittadini è un messaggio nello spingere proprio in questa logica a cercare partnership, a creare collaborazioni e condivisioni proprio per creare un sistema sociale ed economico che sia veramente innovativo e possa competere con un mondo che nel post-crisi ha solo bisogno di essere conquistato. Oggi prende corpo quella che è la nostra volontà, la volontà del sindaco Modaffer di Giovanni Ruvolo e di iniziare a fare un lavoro comune per il bene delle collettività di San Cataldo e Caltanissetta. Non vogliamo più essere dei soggetti individualistici ma vogliamo creare invece i presupposti per un lavoro di tipo comune. Oggi mettiamo in campo quelle che sono le nostre potenzialità. Bisogna lavorare assieme per cercare di ottenere i maggiori benefici di un territorio che non è da considerarsi singolo ma considerarsi invece nel complesso. Creeremo i presupposti per far sì che in tante progettazioni in cui sia necessaria la massa numerica noi saremo presenti. La nostra volontà è proprio quella di creare le sinergie utili a migliorare le condizioni di benessere del territorio di San Cataldo e Caltanissetta e circondario. Come segno di discontinuità con il passato personalmente ho dato mandato all'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di iniziare a cangellare tutte le scritte che in qualsiasi modo vedono Caltanissetta direggiato da parte dei nostri concittadini. Vogliamo far sì che questa rivalità tra San Cataldo e Caltanissetta non esista più ma ci sia una sana competizione che possa portare al meglio delle condizioni di vivibilità dei nostri territori.